Il voto per le regionali e per il taglio del numero dei parlamentari di domenica e lunedì prossimi sta diventando sempre di più un voto sul governo Conte. Ma Walter Veltroni come voterà? Subito dopo la pubblicità. Walter Veltroni, lei non si è ancora pronunciato su come voterà al referendum per il taglio del numero dei parlamentari? Voterà sì o voterà no? Guardi, se fosse un voto sul governo come lei ha detto prima io voterei a favore del governo perché sinceramente non vedo alternative in questa legislatura al governo che c'è e penso che il governo abbia fatto in questa crisi quello che doveva fare, non era facile. Mi auguro che alle elezioni regionali vincano i candidati di centrosinistra e mi dispiace che la coalizione di governo non sia anche la coalizione delle regioni e che l'invito di Conte non sia stato accolto. Sul referendum è un po' un'altra storia, nel senso che il referendum ha una vicenda. Ma lei voterà sì o no? Adesso ci arrivo, glielo dico, non c'è nessuna patos. Arriva in Parlamento presentato dal governo giallo-verde, dal governo con la Lega, dal ministro per la democrazia diretta, allora si chiamava così, e quando arriva in Parlamento per tre volte il Partito Democratico gli vota contro. Io mi sono andato a rivedere le dichiarazioni di voto, abbiamo sempre detto no e diciamo no ancora oggi, a scelte che anziché essere parte di una riforma seria sono lo strumento di un disegno antiparlamentare, uno spot elettorale, è un taglio casuale numerico, non c'è stata alcuna volontà di affrontare i nodi strutturali di un bicameralismo ripetitivo, totalmente indifendibile e non difeso, non c'è consapevolezza dei riflessi dei numeri, eccetera. Allora, questa è stata la posizione che il Partito Democratico ha espresso tre volte. Poi ha cambiato, e io lo capisco nel senso che ha cambiato per favorire la formazione del governo in un momento drammatico nel quale i rischi erano molto elevati, però invece non ho cambiato idea. Penso che, mentre sono sempre stato d'accordo sulla riduzione del numero dei parlamentari, ho sempre pensato però che non si può fare da sola. Bisogna farla accompagnandola alla fine del bicameralismo, che è la vera anomalia italiana, quello che rende lento, farraginoso, macchinoso il processo decisionale, è il bicameralismo perfetto che non c'è in nessun altro Paese. Allora, siccome si è deciso di intervenire solo su un punto, e forse anche quello più facile, e queste parole lo stavano a testimoniare, e quello sul quale probabilmente ci sarà un voto molto ampio, anche perché tutti i partiti sono favorevoli a questa misura, io penso che evitare che ci sia in questo momento una specie di plebiscito che probabilmente verrebbe interpretato come un plebiscito un po' per la chiave con la quale tutta questa storia è stata presentata, tagliamo le poltrone, quegli argomenti che secondo me non aiutano. Un pulista anticasta come argomento. Ma l'anticasta, finché è casta va bene. Si sa bene chi sia casta. Il Parlamento però è il Parlamento, e se lo si tocca bisogna toccarlo tenendo conto degli equilibri. Però, le devo dire al tempo stesso, che non mi piacciono i toni esasperati, non mi piace chi dice che è un attacco alla democrazia, non mi piace chi dice che se vince il SIE è la fine del mondo. Penso però che fare questa scelta senza gli equilibri necessari è un elemento di alterazione dell'equilibrio del sistema. E quindi lei voterà no? Io voterò no. Lei voterà no? Pensa che abbiano delle chance? No? Oppure dà per scontato che vinceranno i SIE? Ma insomma, appunto, tutti i partiti politici sono per il SIE, tutto il centrodestra è per il SIE, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, sono tutti per il SIE, quindi, insomma, è facile. E poi è un argomento, diciamo, al quale è più facile dire di SIE che dire di NO, ecco. E quindi è prevedibile che vinca il SIE. Però io penso che il fatto che sia un risultato non del tutto squilibrato aiuta poi ad affrontare insieme, perché vede l'altra anomalia di questo Paese. Nelle democrazie le regole si fanno insieme e i governi si fanno separati. Noi siamo l'unico Paese in cui le regole si fanno separati e i governi si fanno insieme tra gli opposti. Andrea Scanzi, questo NO di Veltroni al referendum sul taglio dei parlamentari è in netta contraddizione con la linea ufficiale del Partito Democratico, no? Zingaretti, ormai, siccome mancano pochi giorni, dice continuamente che il SIE è un SIE per cambiare, è un SIE per fare riforme. Cosa significa questo NO di Veltroni? Io credo che una delle persone più chiare in merito sia stato Bersani quando ha distinto tra i NO sinceri e i NO insinceri. I sinceri sono quelli motivati, gli insinceri sono quelli attraverso i quali si vota NO per distruggere Conte e il governo. non ho nessun dubbio, lo ha dimostrato e non aveva bisogno di dimostrarlo, che Valtel Veltroni il suo sia un NO sincero. Massimo rispetto, io domenica o lunedì, non lo so, voterò sì, ma confesso di non essere particolarmente attratto da questa contesa. Ero uno che per il 4 dicembre 2016 sarebbe salito sulle barricate per il NO, lo ha fatto, sono orgoglioso che abbia vinto il NO. Domenica ci andrò veramente con scarso entusiasmo, secondo me le priorità del Paese sono altre. Ci sono due cose che mi convincono poco, non tanto di Veltroni, ma del NO che arriva dal Partito Democratico, da alcuni del Partito Democratico, anche da fette dei media, penso per esempio all'Espresso e Repubblica. Il primo è di quelli che votano NO, ma hanno votato sì il 4 dicembre 2016. Mi fa molto ridere sentire, leggere per esempio l'Espresso che dice c'è attenzione, ci sono dei rischi, si frantuma la Costituzione quando magari quelle stesse persone quattro anni fa hanno serenamente votato una riforma che cambiava un terzo della Costituzione. Mi riferisco alla Boschi Verdini. Quindi è un po' curioso. Ho profondo rispetto di chi ha votato NO in entrambi i casi, per esempio Tommaso Montanari, Jasmine Cristallo. Quindi che adesso votano NO e prima hanno votato sì, mi sembra che votino Sì per fare un dispetto ai 5 stelle a questo Governo. E vengo al secondo elemento, ma non parlo. Scusa Andrea, adesso non torniamo più su quel referendum del 2016, però era una riforma un po' più vasta che comprendeva e prendeva in considerazione molti aspetti del nostro sistema politico parlamentare. Quindi diciamo... E' certo. Eh sì, in questo caso quello che sta dicendo Vettroni è che manca una riforma complessiva, che non basta il taglio del numero dei parlamentari. Dilli, sono punti di vista, magari quattro anni fa ce n'erano troppi di punti di vista complessivi e di troppe cose dentro. Se ce ne avesse messa dentro soltanto una, magari superare il bicameralismo, forse Renzi serve ancora Presidente del Consiglio. Ma l'altro elemento che mi incuriosisce è questo. Il Partito Democratico è il più grande maestro della fedeltà alla linea. Appunto, quattro anni fa si votò a fedele la linea. Io ricordo Cuperlo che arrivò a votare sì, anche se aveva detto il giorno primo, mi fa sostanzialmente orrore. Cacciari disse questa riforma è una puttanata e votò sì. Quindi in qualche modo ci fu il fedele alla linea. Adesso il Partito Democratico, che pure è il maestro dei fedeli alla linea, ma guarda un po' quanti distingue. Non ci prendiamo in giro. È del tutto legittimo votare no. Ma votando no e facendo in maniera tale che il no prenda più voti possibili, automaticamente noi si indebolisce zigaretti. È inutile girarci intorno. Poi si può fare tutti i costituzionalisti del mondo, si può dire sono diventato Zagrebeschi, sono diventato Carla Sare, sono diventato il più grande esperto di Costituzione. Ma è del tutto ovvio che più prende voti il no e più in qualche modo Zingaretti diventa debole. È un fatico a pensare che non lo si capisca nel centro-sinistra. Veltroni, vedevo che non era molto d'accordo, anche perché ricordiamolo, si va a votare domenica e lunedì anche in sette regioni italiane. Quindi lì Zingaretti sicuramente si gioca una partita delicatissima e anche il governo. Ma lei non era d'accordo sul fatto che adesso molti del PD votano no perché... Su cos'è che non era d'accordo? Io voto no come votano Romano Prodi, come votano Arturo Parisi, come votano Massimo Cacciari. Voto no perché ho, su questo tema specifico, diciamo non siamo in un tempo in cui i partiti... Altrimenti basterebbe che si pronunciassero i segretari dei partiti anche sui referendum e via così. Per fortuna ci sono dei punti di vista, delle storie. Io per esempio, adesso voglio essere ancora più schietto, a me non piace complessivamente l'andazzo che sta prendendo l'evoluzione istituzionale di questo Paese. L'idea di una legge proporzionale, del ritorno alle preferenze, non mi piace. Io sono e rimango convinto della democrazia dell'alternanza, della costruzione di due grandi schieramenti che si combattono, che vanno davanti agli elettori con un programma, che vengono scelti dagli elettori. Chi vince governa per cinque anni, chi perde sta all'opposizione. Ci sono tre schieramenti almeno, destra, sinistra e cinque stelle che non si sa bene cosa siano. Sono di destra o di sinistra i cinque stelle? Qui torniamo al tema. Sono di destra o di sinistra i cinque stelle? Io ho sempre pensato che gran parte degli elettori di cinque stelle vengano dalle file della sinistra. E quindi che bisogna rispettare e seguire con attenzione anche l'evoluzione dei cinque stelle. Però rimane il problema. Noi abbiamo da molti anni un governo ogni anno. Noi cambiamo governo ogni anno. Come si fa a governare questo Paese in questo Stato? Negli altri Paesi europei chi governa, governa cinque anni. Da noi, governi, non si fanno mai le verifiche elettorali. Allora, vedo che Scansi scuote la testa. Cosa non ti convince? Ma scuoto la testa perché non è che uno può fare il maggioritario torto collo se la realtà elettorale è una realtà tripartitica, caro Veltroni. Io capisco il suo ragionamento. È una sua battaglia molto antica. Dopodiché in questo Paese c'è un centro-sinistra che peraltro è diviso in 7-8 gruppettini. C'è un centro-destra, purtroppo, aggiungo io, coeso. E poi ci sono i 5 Stelle che in due anni sono passati dalla Lega al Partito Democratico. Lo stesso Partito Democratico è fatto un po' da persone che vogliono dialogare con i 5 Stelle. Penso a Provenzano. E un po' da persone che ci dialogano perché sono costretti. Penso a Marcucci. In una realtà del genere come si fa a fare il bicameralismo? Perché voi avete domandato dove stanno i 5 Stelle. Ma dove sta il centro-sinistra? Andrea, il piccolarismo. Io allora chiamo in causa i governi. Come si fa a fare i governi se non c'è una sintonia programmatica? Non è che si può continuare a fare i governi per paura che arrivi qualcun altro. Perché per paura che arrivi qualcun altro non si cambiano i Paesi. Si erge una difesa. Io penso e mi auguro che tra i 5 Stelle e il Partito Democratico ed altre forze possa crescere una convergenza programmatica. E quindi al di là delle autodefinizioni, sto a destra, sto a sinistra, io rimango dell'idea che destra e sinistra esistono nella... Siamo in due, Walter. Ecco, siamo in due. E Conte è l'uomo giusto per fare questo salto di qualità. No, ma adesso non so chi sia l'uomo giusto. Quello che mi interessa è capire se quello che stanno facendo insieme è per evitare che arrivi qualcuno, come prima si stava insieme tutti quanti per evitare che arrivasse Berlusconi che poi arrivava lo stesso o se invece tra i 5 Stelle, il Partito Democratico e le altre forze può crescere una convergenza programmatica e quindi si può creare un nuovo bipolarismo. Perché la si veda come la si veda. Ma non sono stati capaci di fare nemmeno questa volta un accordo per le regionali, il P10, la Liguria. E non per caso ci sono tante regioni in cui si va a rischio. Allora, questo conferma che o è vero l'incontro, o è sincero, o è reale oppure è qualcosa che si fa per opporsi a qualcun altro. E se poi si scopre che questo qualcun altro ha un consenso grande nel Paese nonostante quello che si è fatto, che succede? Allora, io penso e continuo a pensare che le nostre culture politiche, ce le metto tutte, possano produrre una visione positiva. Quando dico nostro intendo quel grande campo di pensiero democratico che è l'altro rispetto alla destra di questo Paese e che però ha bisogno di dire con chiarezza cosa vuole fare e se lo vuole fare insieme. Perché altrimenti si torna ai governi che durano un anno e l'Italia non è in condizione di sopportare instabilità politica. Allora, intanto le voglio dire che in serata Di Maio ha detto che chi vota no al referendum è un assenteista o un volta gabbana. Ecco, questo ve lo volevo solo dire. Ma io, appunto, però fa parte del linguaggio dei tempi perché allora si può rivoltare in molti modi. Chi stava al governo con la Lega e ora sta col PD cos'è? Se vogliamo usare queste categorie, chi stava con i gilet gialli e adesso sta con l'Europa cos'è? Vogliamo aprire questa discussione? Sconsiglierei. Meglio di no. Senta, torniamo un attimo a Zingaretti, a quello che è la posta in gioco anche per il segretario del PD con queste regionali. Se il PD perde la Toscana, Zingaretti dovrebbe dimettersi? No, io penso di no. Penso di no, ci sono passato, ci sono passato. Ma lei si dimise, no? Sì, ma io non mi dimisi per la Sardegna. Io mi dimisi per altri motivi che attenevano al fatto che il progetto di Partito Democratico che avevo in cuore vedevo che non si poteva realizzare. La Sardegna fu un elemento assolutamente... No, no, Zingaretti non si deve dimettere. Non si deve dimettere. Ma è un buon segretario in una fase come questa? Secondo me sì, secondo me sì. La vera partita, lei e anche Andrea lo avete detto, sono le regionali. Ma il paradosso è che ciò che può indebolire il centro-sinistra sono le divisioni che ci sono state alle regionali. Perché se in tante regioni in cui sono separati 5 Stelle, Italia Viva e gli altri fossero stati insieme, non staremmo a discutere qui del fatto se la destra vince quattro o tre regioni, ma saremmo in una condizione di grande stabilità per il governo. L'occasione perduta non è il referendum che, diciamo, per le sue caratteristiche è tutt'altro. L'occasione perduta è la convergenza, giustamente richiesta da Conte e da Zingaretti, della coalizione nelle elezioni regionali. È quello che indebolisce il governo. Allora, tu su questo sei d'accordo, Andrea Scanzi? Ma perché anche questa volta il Movimento 5 Stelle non è arrivato pronto a un accordo con il Partito Democratico nelle varie regioni che andranno al voto nel prossimo domenica e lunedì? Perché Di Maio ha detto sì, bisogna preparare meglio, ma è esattamente quello che ha detto alle ultime regionali. Anche lì bisognava arrivarci meglio e più preparati. Non sono arrivati preparati neanche adesso. Perché? Ma le regionali diciamo che sono la quintessenza del fallimento del Movimento 5 Stelle. Non hanno mai visto boccia, non hanno mai toccato palla. Piccola premessa fondamentale, ascoltando Vettroni, io sono stra d'accordo sul fatto che c'è bisogno di una convergenza sentita. Cioè, se PD e 5 Stelle stanno insieme in questo governo soltanto perché altrimenti c'è Salvini o soltanto perché non esiste alternativa o soltanto perché nei prossimi mesi arrivano i soldi del recovery fund allora smettete qui. Perché o ci si crede nelle cose oppure si ritarda semplicemente la tragedia che sarebbe la vittoria di questa destra che a me fa paura. Sbaglierò, ma a me fa paura. Venendo alla tua domanda perché i 5 Stelle non hanno trovato l'accordo col PD secondo me ci sono due regioni che fanno capire benissimo il fallimento di questo accordo allo Stato attuale che però hanno due responsabili diversi voglio essere molto chiaro su questo la Puglia e la Toscana. In Puglia c'è stato, secondo me un suicidio totale del Movimento 5 Stelle e anche dei Renziani perché i Renziani hanno piazzato Scalfarotto che toglierà quel 3, 4, 5% che di fatto sarà un regalo affitto. Ma i 5 Stelle si sono ostinati a candidare questa laricchia che anche oggi non ha mancato occasione di attaccarmi perché sono uno di quelli che ritiene che il voto disgiunto sia la salvezza per questo Paese perché? Perché hanno detto che Emiliano è la stessa cosa di Fitto è una sciocchezza bisogna smetterla con questo atteggiamento assolutamente qualunquista secondo cui Fitto è uguale a Emiliano Emiliano non è perfetto ma non è uguale a Fitto chiunque vota non i 5 Stelle come lista ma vota il candidato laricchia come governatore fa un regalo a Fitto e butta via il suo voto questo lo dico, lo ripeto e lo dico anche a Di Battista che fra due giorni chiuderà la campagna elettorale a Bari dicendo al popolo 5 Stelle votatela laricchia è un suicidio per i 5 Stelle e per il governo la Toscana è un altro sport e io lo conosco bene perché sono toscana e vi parlo da resto in Toscana il PD ha scelto un candidato che è debole è un candidato che è più renziano di Renzi è un candidato che non riesce a essere digeribile dai 5 Stelle perché quando è stato scelto Gianni il PD era convinto che Renzi avrebbe portato vagonate di voti in Toscana i sondaggi che hanno adesso nel PD e Veltroni credo lo sappia dicono che Renzi tutta sta grande vagonata di voti non solo non la porta nel resto d'Italia ma non la porta neanche in Toscana mentre i 5 Stelle hanno ancora quel 10% scazzo in Toscana che potrebbe essere decisivo e allora anche in Toscana persino in Toscana si rischia di far vincere il centrodestra perché qui a oggi non sta scattando l'effetto Bonaccini Bonaccini ha vinto in Emilia Romagna perché i 5 Stelle erano in qualche modo attratti da Bonaccini Gianni non ce l'ha questo effetto quindi in Toscana il rischio c'è ma non solo per colpa di 5 Stelle ma per colpa del PD che ha creduto pedissequamente a Renzi che dopo aver fatto i danni che ha fatto li sta facendo anche in Toscana allora è d'accordo con questa analisi diciamo il vero guastafeste è Renzi che è riuscito comunque a imporre il suo candidato in Toscana e a proporne uno contro Emiliano in Puglia e anche lei è pessimista sulla Toscana? No io non sono pessimista perché perché ho la consapevolezza che la Toscana è la più bella regione del mondo del mondo cioè non c'è una regione che sia stata nel corso del tempo governata con tanto equilibrio ambientale sociale come la Toscana e dal mio punto di vista anche altre come la Miliano Magna però una candidata di Salvini della Lega poi proprio candidata di Salvini è molto molto forte e potrebbe vincere quello che si paga sono di nuovo le divisioni sono di nuovo le divisioni tanti sindaci hanno vinto di destra in Toscana e Walter sai bene che tante città storiche a pannaggio della sinistra adesso hanno un sindaco di destra questo lo sai bene ma questo Andrea hai ragione e questo è un discorso lungo quando io sento parlare di insomma dei partiti e sento la rinuncia a certe ambizioni io penso che il primo problema che i partiti si devono porre è il consenso delle persone io ho sentito parlare delle scissioni che si sono fatte del PD che sono fatte diverse ma la vera scissione è stata con 6 milioni di elettori e bisognerebbe andare da parte del Partito Democratico persona per persona soprattutto nei quartieri popolari di questo paese bisognerebbe andare a spiegare le ragioni per le quali le risposte della sinistra sono le uniche risposte che possono garantire proprio chi soffre di più e se non si fa questo poi questo unito alla sindrome tafazziana della divisione che la sinistra ha perseguito sempre nella sua storia rischia di creare la situazione che si è creata in questa regione Veltroni vorrei fare un passo avanti e torno al governo Conte perché oggi in un'intervista a Bettini che è diciamo uno dei principali consiglieri del segretario Zingaretti ha detto che contro Conte agiscono potentati che vogliono colpire un governo libero li vede anche lei questi potentati anti Conte? Non lo so io appunto ho sempre un po' paura quando si evocano diciamo o il babà o della destra o i poteri forti è sempre un modo per dire no la sfida non è sulle cose che si fanno ecco io invece penso che il governo Conte l'ho detto prima e lo ripeto abbia fatto bene ci sono alcuni ministri ai quali credo il paese dovrebbe semplicemente dire grazie mi viene in mente una persona discreta come Roberto Speranza mi viene in mente Enzo Amendola mi viene in mente il ministro della Salute il ministro delle fare europee sì insomma persone che magari non è che stanno tutti i giorni in prima fila scusi e la ministra Azzolina che è ministra dell'istruzione contro la quale la Lega ha presentato una mozione di sfiducia ma la Lega ha presentato mozione di sfiducia contro chiunque nel corso di questi anni ma ha fatto bene o male la ministra Azzolina ma guardia fa male la Lega ad avere l'atteggiamento che ha avuto in tutti questi mesi nei confronti del governo nel momento più drammatico dell'emergenza di questo paese io ricordo che una sera in collegamento con lei lessi il discorso che aveva fatto il capo della destra portoghese rivolgendosi al presidente del governo portoghese socialista ci sono dei momenti in cui le persone che hanno a cuore il paese si tolgono le armature la smettono di urlarsi contro la smettono di inveire perché c'è la gente che muore e c'è la gente che sta male ci sono le persone che si fanno sulla scuola la Azzolina poteva fare meglio il governo poteva fare meglio chiunque può fare meglio però le devo dire che tutto quello che stiamo vivendo è un'emergenza inedita io prima di buttare la croce addosso la gente ci starei molto attento come non mi viene da buttarla sugli amministratori di centrodestra che si trovano a fronteggiare situazioni drammatiche perché ho governato una città e so che cosa vuol dire amministrare non accetto che si faccia la caccia specie se son do che viene più facile la caccia alle responsabilità poi uno può essere più bravo o meno bravo io ho citato alcuni dei ministri che considero più capaci ma questa idea che si spara nel mucchio nel momento in cui la crisi è più drammatica è un'idea che mi è del tutto estranea Presidente Veltroni e le elezioni regionali per rilanciare la leadership di Salvini la Lega deve vincere la Toscana? è un problema non mio sinceramente quello della leadership di Salvini io le posso dire questo penso che se questo paese in questo anno fosse c'è un paese che potrebbe essere rilanciata la leadership di Zaia invece che stravincerà in Veneto guardi se questo paese in questo anno fosse stato governato dagli omologhi di Bolsonaro di Trump il nostro paese avrebbe pagato un prezzo molto più alto molto più alto ma le fa paura questa destra che abbiamo in Italia oggi? mi fa paura in questo momento il modello di destra che c'è sul piano internazionale che non è la destra alla quale siamo stati abituati che è la destra della quale bisogna in pieno riconoscere la legittimità perché anche questa cosa che la gente di sinistra pensa di essere l'unica portatrice della verità e pensa che tutti gli altri siano degli stravaganti perché hanno magari opinioni o culture di destra perché esistono le culture di destra questa destra che noi abbiamo adesso in giro per il mondo è una destra che ha caratteri del tutto diversi guardi Trump lei pensa che Trump rivincerà le elezioni il 3 novembre prossimo? io l'ho scritto sul Corriere della Sera quello che temo di più è una situazione di crisi della democrazia americana cioè temo che se perché quest'anno ci sarà il voto postale che sarà importante tanto quanto il voto espresso temo che una differenza nei due voti che è possibile perché nel voto postale i democratici di solito prevalgono possa creare una situazione nella quale Trump possa non accettare l'esito del voto con il rischio di una situazione di blocco della più grande democrazia del mondo in questo momento di difficoltà economica globale infatti sono in molti a pensarlo a scriverlo a dirlo che insomma la posta in gioco è altissima negli Stati Uniti e non solo per l'America ma anche per il resto del mondo Conte il governo Conte in questa grave crisi pandemica ed economica è comunque il governo giusto per la ricostruzione o lei pensa come pensano alcuni che in realtà dovrebbe esserci un altro premier un altro governo un governo di unità nazionale in questo Parlamento mi sembra sinceramente che non ci siano le condizioni vogliamo veramente fare il finale di otto e mezzo di Fellini abbiamo cominciato col governo Lega 5 Stelle abbiamo proseguito il governo 5 Stelle PD e concludiamo con un governo di tutti insieme appassionatamente io mi auguro che presto e per questo continuo a restare legato a quell'idea presto si possano creare le condizioni per un'alleanza programmatica che abbia io mi auguro un Partito Democratico forte al centro per garantirne il riformismo e che si candidi contro una destra che sia a sua volta una destra civile con Grillo PD e 5 Stelle un accordo programmato no 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 se posso però no per integrare io vorrei proprio capire questo perché siamo d'accordo almeno in questo studio sul fatto che la destra non ha avuto il senso della realtà che ha avuto per esempio la destra portoghese siamo d'accordo che hanno sbagliato i toni tanto Meloni e Salvini siamo d'accordo sul fatto che Salvini e Meloni che criticano Azzolina fa ridere tenendo conto che i governi di centro-destra hanno disintegrato la scuola come nessun altro governo e nel 2008 la riforma Gelmini fu votata tanto da Salvini quanto da Meloni che era pure ministro nel Berlusconi Quater la domanda che però a me incuriosisce Veltroni e le o ti chiederei una risposta netta è questa ci credi oppure no in questo accordo organico PD e 5 Stelle perché un conto è dire ci spero perché l'alternativa è brutta perché ora in questo Parlamento non si può fare altro ma sai meglio di me che se i 5 Stelle non sono convintissimi di dialogare veramente col PD il dubbio c'è anche nel PD lo si vede anche in questi giorni una figura autorevole come Saviano non appena vedi 5 Stelle ha paura un giornale autorevole come Repubblica non perde occasione perché rivellare i 5 Stelle e conseguentemente il PD perché osa dialogare con i 5 Stelle allora io da cittadino e anche da persona che ti conosce visto che tu non sei uno qualsiasi mi domando ci crede Walter Veltroni in questo dialogo in questo dialogo PD 5 Stelle o no? ci crederei di più se sul MES sui decreti sicurezza si fossero fatti i passi in avanti che si dovevano fare quindi a me ha colpito che Zingaretti abbia riunito la direzione del PD e abbia onestamente collocato il Partito Democratico per il SIA referendum facendo una scelta non semplice perché il giorno dopo il Partito il Movimento dei 5 Stelle ha convocato una conferenza stampa per dire no al MES su questa base è difficile se si fa sul serio e se si è sinceri si apre una discussione in cui il punto di vista programmatico dei 5 Stelle dovrà pesare quanto è giusto che sia però senza queste furbizie senza questo gioco al rialzo senza i toni dell'esasperazione della propria identità che alla fine diventano degli ostacoli sul cammino e io poi sono d'accordo lo abbiamo detto tutte e due o si sta insieme per fare qualcosa oppure stare insieme per paura non garantisce a questo Paese le riforme radicali delle quali ha bisogno Senta Beltroni la interpello su Roma a proposito anche di PD e 5 Stelle siccome lei è stato anche sindaco di Roma è romano il centro-sinistra è in alto mare per quanto riguarda un candidato suo da contrapporre alla sindaca grillina Raggi sindaca uscente che suggerimento darebbe al PD anche qui vorranno i 5 Stelle il Partito Democratico cioè quelli che stanno al governo insieme pensano di stare solo al governo insieme o pensano di creare nel Paese un processo che è quello del quale stiamo parlando ma pensa che il PD dovrebbe appoggiare la Raggi per una rielezione io penso che bisognerebbe cercare una soluzione quindi un altro candidato una candidatura che possa essere un punto di convergenza di tutte le forze perché la contrapposizione deve essere nei confronti del candidato del centro-destra contrapporsi il conflitto è necessario è il contrario dell'odio e il conflitto la democrazia ha bisogno del conflitto per evitare esattamente l'odio ha detto una parola che diciamo in questi giorni abbiamo sentito letto scritto molte volte lei tra l'altro ha pubblicato recentemente questo libro per Rizzoli Odiare l'odio lei pensa che visto anche quello che è successo con Leferro a Caivano che la politica abbia una grossa responsabilità attraverso anche il linguaggio così aggressivo in queste vicende così violente sì io penso che le parole continuo le parole che si scelgono e le parole che si scartano non si scartano si sono usate delle parole in questo paese da parte di persone che hanno responsabilità che hanno sdoganato comportamenti atteggiamenti linguaggi che pensavamo di aver lasciato nei momenti più tragici del Novecento però qui c'è uno degli effetti di culture che sono culture devastanti e cioè la cultura della semplificazione della radicalizzazione il pollice su e il pollice giù il pollice su e il pollice giù si usava il Colosseo le persone che stavano lì che assistevano al momento in cui il gladiatore voleva infilare la lancia nel costato del poveraccio che stava sotto facevano su giù col pollice ma non contava nulla contava un solo pollice quello dell'imperatore e noi stiamo andando verso questa direzione tutti sono convinti che un tweet cambi il mondo e però stiamo progressivamente consegnando le democrazie a poteri autocratici in cui conterà il pollice solo di uno e questo è l'effetto di culture della semplificazione della radicalizzazione dell'estremizzazione di tutto quelle per le quali gli altri da te sono un nemico gli altri da te non hanno legittimità non sono argomenti ma sono temi da demonizzare quelli che sostengono gli altri da te beh riflettete verrebbe da dire dobbiamo sicuramente riflettere e adesso vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro perché non si vota domenica e lunedì solo alle regionali solo per il referendum si vota anche in molti comuni italiani il punto domenica e lunedì non si voterà solo per il referendum e sette consigli regionali quasi 5 milioni di italiani saranno chiamati a scegliere anche il loro sindaco decideranno da chi farsi amministrare i veneziani lo stesso faranno i cittadini di Reggio Calabria Bolzano Trento Arezzo Aosta Lecco Macerata Crotone Matera Giuliano e centinaia di altri grandi e piccoli comuni 12 sono capoluogo 96 quelli con più di 15.000 abitanti viene eletto sindaco al primo turno chi supera il 50% gli eventuali ballottaggi sono in calendario il 4 e 5 ottobre con i suoi 200.000 elettori la più grande città al voto è Venezia ma se è chiaro che la grandezza di Venezia non si misura con il numero dei residenti è vero anche che solo un progetto che contempli il ripopolamento può arrestarne il drammatico declino reso palese dalla marea del novembre scorso prima e dall'epidemia dopo è la tesi sostenuta dal giornalista Giorgio Barbieri e dall'economista Francesco Giavazzi che firmano un libro Salvare Venezia pubblicato ieri dalla Bur in assenza di un piano per riportare i veneziani a casa loro se l'unico progetto è il turismo a buon mercato e la ricca rendita che esso produce allora concludono i due forse è meglio affidare la città alla Walt Disney Corporation come tempo fa aveva proposto l'Observer allora grazie grazie Walter Veltroni ricordo il suo nuovo libro Odiare l'Odio pubblicato da Rizzoli grazie Andrea Scanzi grazie spettatrici e spettatori vi lascio ad Andrea Purgatori al suo Atlantide che stasera vi mostrerà una esclusiva della sette ovvero l'intervista fatta da Werner Herzog il grande regista tedesco a Gorbaciov e vedrete sentirete anche interventi di Ezio Mauro quindi state con noi e noi ci vediamo come sempre domani a un'altra mezza grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti